Voglio ringraziare a nome della società e a nome di Edersegna i sindaci che hanno accompagnato questa inaugurazione del nuovo ufficio, in modo particolare il sindaco di Sormano, gli amici consiglieri e assessori del comune di Castino d'Erba, di chi d'altro che io non conosco e vogliamo ringraziare anche perché il successo di questo ufficio sarà quello di servire tutto il territorio dell'Erbesi e ci auguriamo anche della malattia, della comunità montagna. Grazie.